Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it Oggi ci occupiamo di recensire in modo completo Huawei Ascend G300 Smartphone venduto da Vodafone ma non marchiato Vodafone Nel senso che viene venduto come Ascend G300 e non come Vodafone Ascend G300 Dettaglio di poco conto ma comunque Una nota diciamo di colore Lo smartphone viene venduto a 199€ appunto da Vodafone Qualche caratteristica tecnica Processore da 1 GHz, 512 MB di RAM 2,5 GB di memoria interna espandibile con microSD Schermo da 4 pollici con risoluzione 480x800 Fotocamera 5 megapixel, nessuna fotocamera frontale Abbiamo già fatto l'unboxing ma andiamo a vedere velocemente cosa è presente nella confezione Sim con 5 euro di traffico E in questa scatola troviamo Cavo USB, micro USB Scusate la difficoltà nel mostrarvi la confezione Cuffie standard stereo e alimentatore italiano Niente di più Andiamo a spostare la confezione che adesso non ci interessa E passiamo allo smartphone Questo è lo smartphone in versione bianca E' presente anche in versione grigio scuro Vedete la colorazione bianca Questa è la fotocamera da 5 megapixel Con il piccolo LED flash e lo speaker La scocca è abbastanza interessante perché E' comunque di plastica Sono due plastiche leggermente differenti ma è comunque plastica L'apertura è laterale ed è molto solida Quindi noi non abbiamo avuto problemi particolari per quanto riguarda la qualità costruttiva dello smartphone Vedete ci sono tantissimi agganci Nessun dislivello nell'apertura fra le due scocche Bilazione del volume a sinistra Tre tasti touch sotto Connettore micro USB sotto Lato destro pulito Sopra tasto di accensione e spegnimento quasi centrale E il connettore audio da 3,5 Questo è lo smartphone Smartphone dotato di schermo da 4 pollici Con risoluzione 480x800 L'interfaccia è quella personalizzata da Huawei Con questo cubo rotante infinito E con una schermata di blocco sblocco che avete visto Lo schermo purtroppo non è luminosissimo O almeno il contrasto sotto la luce diretta del sole Ma anche in condizioni di media luminosità Non è un gran che Quindi sono leggermente sbiaditi i colori E sotto la luce diretta del sole È difficile vedere lo schermo Software è Android Gingerbread Non abbiamo informazioni precise Circa l'aggiornamento da Screen Sandwich Devo starnutire Android è la versione 2.3 Gingerbread Non abbiamo informazioni precise Riguardo l'aggiornamento da Screen Sandwich Che verosimilmente non arriverà mai Il software è personalizzato in modo abbastanza lieve Da parte dell'operatore Si tratta di alcune applicazioni preinstallate Vedete qui quelle di Vodafone La personalizzazione maggiore è quella portata da Huawei Su tutta l'interfaccia Che è abbastanza veloce Ma secondo noi sarebbe stato nettamente meglio Lasciare l'interfaccia standard di Android a questo punto Comunque ovviamente si tratta di installare un launcher alternativo dal Play Store E avete risolto i vostri problemi al riguardo Nel drawer delle applicazioni possiamo riordinarle E creare delle cartelle Non possiamo fare altro tipo di modifiche Cominciamo a guardare il software partendo dal browser Segnaliamo purtroppo la presenza della tastiera touchpal Anche qui è assolutamente risolvibile Con una tastiera alternativa installabile dal market Ma ci sentiamo di dire che è veramente un peccato Che una tastiera così sia installata di default All'interno di uno smartphone Perché ne abbassa comunque la qualità del software La correzione non è assolutamente all'altezza di altre tastiere Andiamo a vedere Chrome OS Word Come si comporta con ovviamente Flash Player attivo e tutto il resto Eccolo qua Quindi andiamo a vedere il caricamento di un sito in versione full Il browser è quello stock di Gingerbread Quindi come sappiamo purtroppo non è esattamente ottimizzato come vorremmo Come il browser di Screen Sandwich Stranamente come succede anche in qualche altro smartphone Il caricamento della pagina viene già zoomato E invece avrebbe più senso che avvenisse con il massimo dello zoom indietro Quindi che tutta la pagina fosse visibile Lo scroll è abbastanza buono Ma vedete che c'è un po' un lag per quanto riguarda il caricamento della pagina Ogni volta anche se la pagina è già carica C'è sempre un attimo in cui la pagina deve ricaricarsi Per quanto riguarda il pinch to zoom è abbastanza buono Abbiamo i riscontri peggiori per quanto riguarda lo scroll Quindi se andiamo a fare, vedete, lo scroll della pagina in questo modo Perdiamo pezzi, tra virgolette Proseguiamo, abbiamo alcune demo Quindi uno è in versione demo The Sims 3, Texas Holden Proviamo a effettuare una chiamata Nascondendo il numero di telefono Ok La qualità della chiamata è buona Lo speaker esterno per il via voce non è molto forte Il volume non è molto alto Non abbiamo problemi per quanto riguarda la capsula Questa di ascolto durante le telefonate Ma lo speaker, come vedremo anche, possiamo subito passare all'ascolto della musica Non è per niente alto Quindi il volume purtroppo potrebbe essere più alto Questo è il massimo del volume che possiamo raggiungere su questo smartphone E noi ci stiamo tranquillamente parlando sopra Quindi purtroppo il volume è quello che è Proseguiamo Abbiamo un gestore di file che si occupa anche di gestire le applicazioni installate Tutte le applicazioni standard di Google La galleria è quella stock La fotocamera è, possiamo dire, decente Ma per 5 megapixel forse ci aspettavamo qualcosa di meglio Qualche esitazione Ok, stava caricando Quando è appoggiato sul tavolo purtroppo non prende molto bene i comandi soft touch Se lo solleviamo invece funziona meglio Se non fosse che sia un attimo, ok, bloccato Proseguiamo Non sono molte le altre applicazioni installate da Huawei Anzi sono veramente poche Abbiamo Touchbell Abbiamo l'orologio meteo di AQ Weather Qualcuno di voi, per spiegare un pochino il punto di vista Il punto di vista delle poche applicazioni installate Non è che è meglio mettere tanta spazzatura Che comunque Android ha delle lacune dal punto di vista software Che possono essere colmati con dei buoni software preinstallati Che ci evitano di comprare applicazioni in terze parti dal Play Store Che magari poi non si integreranno così bene col sistema Purtroppo, in questo caso, in questo smartphone Non abbiamo grandi software a sopperire a queste mancanze Andiamo a caricare con Documents to Go I nostri documenti di prova Cominciamo con il Doc X Vedete qualche affannamento Nel caricare il documento E' ovvio, noi stiamo cercando di mettere un pochino sotto stress Però vedete che Le prestazioni sono assolutamente non all'altezza Terminiamo il tutto Perché stiamo cercando di effettuare uno zoom Dopo essere andato completamente nel pallone Per quanto riguarda la riproduzione dei video Vogliamo farvi vedere Nonostante non appaia nessuna miniatura I DVX vengono riprodotti Forse Ok Questo è il massimo del volume È praticamente Quasi non riuscito a sentire nulla Se io continuo a parlare sopra Se sto zitto È veramente bassissimo In cuffia ovviamente la situazione migliore In generale Questo Huawei G300 È bocciato Nel senso che Sono pochi gli smartphone Che sono stati del tutto bocciati Perché non vale assolutamente I 199 euro che costa In Inghilterra veniva venduto a 99 euro Ed era un prezzo un pochino più adeguato A questo tipo di smartphone Specialmente per la dimensione dello schermo Era uno smartphone adeguato Non vale i 199 euro A cui viene venduto Consigliamo quindi di dirigere i vostri acquisti Verso qualcos'altro Un saluto a tutti Da Ciso per AndroidWorld.it